27esima edizione del Raduno 500 a San Severino Marche, un grande successo annunciato. Una a due giorni, sabato e domenica, che ha visto oltre 300 equipaggi arrivare da tutta Italia. Eventi, manifestazioni, sport, attività, ma soprattutto turismo. Questo è l'input che l'organizzazione, quest'anno firmata dal neo-presidente Giampaolo Coccettini, ha voluto dare come segnale importante per questa nuova edizione di grande successo. Siamo con il neo-presidente del gruppo Amatore 500, fresco di nomina, Giampaolo Coccettini. Molta emozione, ma soprattutto grande soddisfazione per un'altra edizione di successo, presidente. Un ringraziamento a tutti gli sponsor, all'amministrazione comunale, a tutti i partecipanti. Grazie, grazie mille a tutti. Tra i tanti turisti che sono arrivati a San Severino c'è Roberto del Fiat 500 Club Italia. Allora Roberto, come ti sei trovato a San Severino Marche? Bellissimo, bellissimo. Una bellissima accoglienza, un bel centro storico, una bellissima piazza. Ieri sera abbiamo fatto una bellissima festa organizzata del club. Abbiamo visitato la sede nuova, veramente bravi. La festa prosegue. Abbiamo portato il sole perché mi dicevano che era 25 anni, allora noi da Trieste e dall'Est abbiamo portato il sole. Mi fa molto piacere questo. Gli organizzatori, Luca Coccettini, grande soddisfazione per questa 27esima edizione, Luca. Sì, è stata proprio una grande soddisfazione. Anche quest'anno abbiamo fatto un grandissimo numero. È stato un bellissimo evento e il tempo quest'anno sembra che ci abbia assistito, fortunatamente. Quindi è venuto uno spettacolo. E chiudiamo le nostre interviste con i protagonisti. Andrea Coccettini, membro del gruppo Amatori 500, un anno importante di transizione, ma soprattutto un anno dove è stata inaugurata anche la nuovissima, prestigiosa sede del gruppo Amatori 500, Andrea. Sì, quest'anno con la 27esima edizione abbiamo inaugurato la nostra sede, molto condivisa da tutti, in quanto abbiamo ricevuto anche diversi complimenti. È un motivo d'orgoglio per noi perché è un po' il nostro covo e quindi ci abbiamo messo passione, passione, tanto lavoro, abbiamo dato tutti noi stessi per creare un luogo di aggregazione per tutti gli appassionati delle 500, di San Severino Marche, ma anche al di fuori della provincia, della regione e come oggi anche al Raduno abbiamo gente da tutta Italia, quindi l'hanno vista un po' tutti e siamo orgogliosi così.